Cataldo, l'Abruzzo ti porta sempre bene, no? C'è anche una tappa che passa a casa tua a Miglianico. Sì, la tappa che passa per Miglianico è una tappa per velocisti, probabilmente lì ci sarà poco spazio per degli attacchi, ma la tappa di Campofelice è sicuramente molto più adatta a degli attacchi o comunque a qualche sorpresa, quindi magari vedremo di fare qualcosa di interessante lì. Puoi dare appuntamento ai tuoi tifosi abruzzesi? Dove vedremo Dario Cataldo all'attacco? Ma in questo giro è difficile dirlo perché comunque siamo qui con un obiettivo con Marc Soler per la classifica, quindi ci sarà poco spazio per gli attacchi, quindi bisognerà un po' cogliere le occasioni quando si presenteranno, così dirlo sulla carta è un po' difficile. Sarà chiaro che passare magari davanti a casa tua a Miglianico un pensierino ce l'hai fatto? Sicuramente perché è un grande stimolo, è una grande motivazione, però dobbiamo essere concentrati sugli obiettivi, quindi dobbiamo mettere un attimo da parte questo sentimento.